Si tratta del secondo anno consecutivo in cui festeggeremo la tradizionale festa di San Martino durante l'emergenza sanitaria, ma di tutto questo non vogliamo di certo che anche quella del Covid diventi una tradizione. Quanto meno nonostante la pandemia, ricorderemo sicuramente che quello intorno all'11 novembre di quest'anno è stato un periodo più sereno, considerati dati confortanti riguardo il Covid. Un bilancio piuttosto positivo relativo a ieri, in cui si registravano più di 500 nuovi casi in Sicilia, ma con meno ricoveri. Certe tradizioni, dicevamo, non devono terminare ed è il caso dell'estate di San Martino, che anche se quest'anno di estate avrà ben poco, date le condizioni meteorologiche avverse di questi giorni, è sempre un modo per trascorrere del tempo in compagnia, visto che nell'ultimo anno non è stato poi così scontato. Ma siamo davvero a conoscenza della storia dietro questa festa e perché si celebra proprio l'11 novembre? Secondo diverse leggende popolari, in una fredda giornata di novembre del 334 d.C., il vescovo di Tour, Fran Martino, compiò un'opera di carità che passò alla storia. Mentre passeggiava col suo cavallo per le strade della cittadina francese di Amiens, vide un mendicante seminudo patire il freddo. Decise di donargli metà del suo mantello e poco dopo incontrò un altro mendicante e gli regalò l'altra metà. A quel punto il cielo si scherì e la temperatura si fece più mite. Ecco perché ci si riferisce all'estate di San Martino. Per quanto riguarda la data, si è scelto di festeggiarlo l'11 novembre perché ricorda il giorno della sua sepoltura, tuttavia non viene mai praticata una celebrazione religiosa a tutti gli effetti, sebbene il culto del santo si sia esteso in tutta Europa. Piuttosto si brinda con vino e castagne perché l'11 novembre è anche simbolicamente associato alla maturazione del vino novello, quello che forse verremo stasera a casa di amici o parenti o in qualche locale e magari assaggeremo i biscotti di San Martino rotondi e aromatizzati con semi d'anice bagnati nel vino moscato. Insomma, tradizioni religiose che si legono a quelle agricole e che rendono questa festa una delle più sentite in Italia e soprattutto in Sicilia.